ehi la ciurma io sono mazzatest e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di mind test ita seconda stagione allora come potete vedere innanzitutto ci sono stati tanti cambiamenti ma non voglio farvi vedere subito quello che avrete già intravisto come prima cosa vorrei farvi vedere il pavimento che ho sistemato e il tetto che ho messo con queste scalette laterali per fare questo bellissimo terrazzino in cui in realtà non so se posizionerò qualcosa delle ceste degli oggetti però mi sembrava carino anche solo per poter spaziare un po' come orizzonte nei dintorni eccetera eccetera non mi ricordo se avevo già piantato i jungle tree lo scorso episodio ma vabbè ci sono i jungle tree e a proposito di alberi dovrò poi raccontarvi un'altra cosa spero di ricordarmelo dopo avervi mostrato tutto sono riuscito a farmare abbastanza cotone da potermi permettere un letto che è un letto di tra l'altro non so di quale modo sia questo letto ah è della home decor è della home decor e quello della home decor è leggermente diverso come crafting perché non si fa come il letto standard ma si fa con vabbè la lana colorata io ho messo perché l'ho fatto di colore arancione e la lana bianca i due stecchetti sopra e i due le due wooden planks sotto le ceste sono rimaste lì dove erano qua dove avevo coltivato lo scorso episodio ho riempito di cotone perché ho farmato e ho potuto permettermi di riempire di cotone la questa zona qua come potete vedere l'ho tutta spianata e ci ho perso un sacco di tempo qua ho espanso un po' la zona dei fiori tra l'altro andrò a raccogliere per farmarne un po' qua ho messo la zona dei funghi che però ci mettono parecchio crescere quindi per ora non ne ho tantissimi e poi tra l'altro ci capita credo un terzo delle volte più o meno che non danno spore quando vengono raccolti e non è un'ottima cosa perché per esempio qua prima ne ho raccolti quanti sono qua? 5 e mi sono usciti 5 spore lo scorso giro invece qua ne avevo 4 e mi sono uscite 3 spore quindi non sempre è produttiva e infatti è quella che è meno avanti di tutti sta venendo notte quindi andrei a dormire così vi faccio vedere anche l'animazione un po' strana della home decor che ha messo per il letto ah odio che la sera non si possa andare a dormire perché per esempio i pannelli solari non funzionano ma tu dormire non puoi dormire dai diventa notte muoviti muoviti l'unica cosa che non mi piace tanto di questo letto è che sembra davvero molto 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 piccolo per quanto è il personaggio cioè nel senso mi sembra quando è che no ma scuso c'è la luna altissima come mai non è notte ok fa tutto quella giravolta e poi fa di nuovo tutto nella giravolta è come se saltasse per entrare a letto cioè come se facesse tipo wuuu per entrare a letto io non faccio così poi se voi fate così visto? visto? questo è proprio per te blockman 77 è cresciuto lo vedi? è cresciuto prima non era là l'hai visto tu stesso e ora è cresciuto e ora se lo raccolgo molto probabilmente non mi darà spore volete vedere? ah me ne date due lol ok molto contento così appunto spinato ci ho perso un sacco di tempo qua ho messo la zona funghi che vorrei fare metà e metà più o meno questi pomodori mais carote patate zucche cocomeri caffè mirtilli fragole uva e come vedete ho dovuto farmare un po' di legno per fare tutti questi tralci e tra l'altro quando vengono raccolte in pratica danno di nuovo questo e quindi è da ripiezzare e danno poi l'uva danno 4 di uva che non è male ma come dicevo nello scorso episodio non è il vegetale quello più performante di tutti questi sono i fagionini che si comportano allo stesso modo ho anche qua ho dovuto farmare un po' di legna per riuscire a riempire tutto il grano quello normale qua ho messo del cotone qua ho trovato poi del rubarb andando in giro che nello scorso episodio non avevamo e niente quindi l'ho piantato non è ancora cresciuto tanto non ho avuto tempo di espanderlo completamente ma pian piano si arriverà allora io qua andrei subito a raccogliere un po' di cotton in modo da poter fare le bag il più in fretta possibile non ho ancora sufficiente cotone per farmi le bag ma presto si ah un'altra cosa il vegetale che è più proficuo di tutti ora come ora è la zucca nel senso che il grano vabbè questi non ci danno un kaiser il rabarbaro ne dà 4 no 3 il rabarbaro maturo dà 3 rabarbari quindi uno va seminato e ne rimangono 2 il grano niente nel senso che vabbè ti dà i semi con cui puoi fare la farina ma il pane è molto complicato e lungo e dispendioso andiamo a guardare allora pian piano gli altri abbiamo visto che l'uva ne dà 4 i fagiolini quanti ne avremo? 5 quindi ne guadagniamo 4 che è già più performante dell'uva ah e da quello che ho visto danno tutti lo stesso nutrimento qua di raspberry ne abbiamo 4 ah tra l'altro no queste non sono fragole i raspberry sono tipo i ribes non lo so effettivamente mi cogliete in fallo su questo non lo so questi sono i mirtilli blueberry o era blackberry ah vabbè insomma quello i mirtilli ne danno ancora meno perché ne danno soltanto 3 e caffè ne dà 6 ma il caffè non si può mangiare così come potete vedere deve essere cotto per fare il caffè eccetera eccetera quindi non è performante quanto gli altri il cocomero è molto comodo per il fatto che dà lui stesso 9 melon slice quindi abbiamo un profitto di 8 solo che come potete vedere è una cosa da nulla però ci mette un attimo di più a raccogliere che non una zucca mentre una zucca è rapidissima da raccogliere ci si mette molto meno tempo cioè a raccogliere tutti questi meloni qua ci va molto più tempo che non raccogliere tutte queste zucche qua la cui raccolta è quasi istantanea e sono proficui tanto come quelli questi sono più lunghi se non sbaglio come crescita nel senso che appunto questi hanno 8 stadi di crescita e non meno come gli altri che per esempio il rabarbaro arriva a 3 come stadio di crescita massimo però dà parecchio tra l'altro potrebbe essere potrebbe essere collegato al fatto che il numero da il guadagno 8 qua dovrebbe darne eh 5 no perché ne abbiamo ah no 5 si qua 3 4 eh no ok non funziona sempre così perché per esempio quello teoricamente avrebbe dovuto darcene una in più invece no patate sono anche abbastanza ah no non sono per niente performanti le patate ne danno soltanto 2 ma succede così sempre si quindi o nulla a meno che non diano tanto cibo ma mi pare di ricordare che ne diano abbastanza ah lo scorso video dicevo ma perché a me sono apparsi nell'inventario ho scoperto che la mod farming ha anche l'auto refill cioè se tu finisci quella cosa che hai nella hotkey te lo riempie con gli altri elementi che hai nell'inventario quindi per esempio se ho finito le pumpkin slice qua mangiando l'ultimo pezzo ma ne ho uno stack qua o degli altri elementi lui me le rimette a quel posto là che può essere molto comodo per dei blocchi di costruzione per il cibo non credo particolarmente però vabbè una cosa che volevo capire però è se effettivamente le potato possono servire per qualcosa per dei cibi scusate per dei cibi più complessi perché nella farming oltre ai cibi non tradizionali abbiamo poi il baked potato che vabbè è quella cotta che probabilmente ci darà più sostentamento l'etaneolo che non so cosa serve se sia un combustibile o cosa con il grano e un glass bottle vabbè il pane lo conosciamo la golden carrot che boh cioccolato tavoletta di cioccolato caffè i biscotti questo è del mais cotto di quello che si trova magari anche nelle fiere questo è una donut questa è una apple donut questa è una cocoa donut chocolate donut eeeh questo niente jack o'lantern si fa facendo la pumpkin che si fa con i nove slice eeeh niente è una lanterna come quella che avevamo all'inizio della scorsa stagione questo è un muffin con i mirtilli o quello che sono i blueberry questo è un pumpkin bread che in pratica viene fatto con il pumpkin duck che come potete vedere è farina e due pezzi di zucca che è come fosse un pane alla zucca questa è una torta al rabarbaro e appunto ha dello zucchero del rabarbaro e del grano mi auguro che la torta dia più che non due di cibo questa qua è molto carina per il fatto che ci sia anche la snow che è di recente di aggiunta recente nell'ultima versione è un raspberry smoothie che credo sia una granita alla raspberry che non so cosa sia e niente zucchero e altre cose qua le conosce ah adesso lo devi cuocere per ottenere lo zucchero ah ok carote torniamo alle carote torniamo a noi le carote ce ne danno 4 di profitto che non è male effettivamente però c'è qualcosa che lo è ancora ancora più performante il corn solo 3 che quindi è uno dei peggiori insieme al al blueberry tomato praticamente niente e e e a occhio mi è sembrato che tutti dessero lo stesso tipo di nutrimento cioè che tutti riempissero allo stesso modo raccogliamo un po' di fiori in modo che possano spreadare ancora ne lascerei 3 più o meno in modo che vabbè vado a raccogliere anche un giallo qua un orange qua e invece i bianchi non stanno spreadando particolarmente boh qua i i bush stanno facendo il loro dovere qua andiamo a svuotarci un po' l'inventario e tutta questa roba qua niente quindi alla fine dei conti il cibo più performante pronto da mangiare subito è il la zucca infatti come potete vedere ne ho già 99 pezzi nell'inventario 99 unità nell'inventario perché è davvero stracomoda da farmare e da mangiare nel senso che non ha bisogno di trattamenti e altre cose è ancora molto più comoda di quanto non lo fossero per esempio le mele nella nostra scorsa stagione che era il cibo più comodo che avevamo là dopo la farm di alberi solo che le mele non erano così tanto abbondanti come potremmo avere abbondanza qua di zucche detto questo ho parlato per un sacco di tempo ma voglio ancora raccontarvi un'altra cosa che ho scoperto scusate questo è un po' più che altro divulgativo questo video ma spero che non vi annoiate particolarmente ho scoperto che i pini quando vengono piantati eliminano il blocco che c'è sotto di loro quindi c'è il sapling che sparisce ma fa sparire anche il blocco sottostante è un bug che credo sia già stato segnalato e spero che risolveranno al più presto e possiamo riprodurlo molto facilmente prendendo semplicemente un pine sapling ecco dammi un pine sapling e della dirt ce l'abbiamo quindi andiamo a prendere della dirt e un pine sapling e io andrei a piazzarlo in una zona vicino a casa ecco tipo anche qua davanti giusto per dimostrare anche a voi che quando crescerà sarà come dire sarà sparito questo pezzo di dirt l'albero inizierà da qua e questo l'ho notato farmandogli i pini là perché davvero è stato un casino perché io avevo già quando li avevo raccolti la prima volta non so se avete partecipato anche voi alla raccolta ma c'era come potrete vedere qua un pezzo di legno sotto infatti vedete c'è un pezzo di legno sotto e allora l'ho raccolto allora dico boh si vede che il il sapling viene piantato in un buco allora io il sapling l'ho rimesso nel buco e mi sono trovato però due pezzi sotto terra e non più uno quindi ho dedotto che sparisce il blocco di terra sottostante farmerò dell'altro cotone poi off camera per avere magari nel prossimo video c'è la possibilità di fare già delle bag e ora come ora abbiamo già un po' di cotone e ci permette di fare credo forse addirittura due zaini grossi è possibile e poi si vedrà nello scorso episodio come suggeriva blockman77 come forse gli ho già risposto in un commento non ricordo se ho già risposto i suoi commenti perché mi ha commentato tra ieri e oggi e sto registrando questo video di domenica quindi il giorno dopo che è uscito lo scorso episodio ho intenzione di fare un piano sotterraneo lui diceva come cantina ma non tanto come cantina volevo fare un piano sotterraneo più che altro come zona di produzione dell'energia poi forse la collegherò con delle zone per creare cibo le zone di farming di cibo tipo quella che avevo fatto nella scorsa stagione anche se ora non è particolarmente urgente anche perché anche senza farm qui abbiamo del cibo immenso cioè se io vado a raccogliere questa zona qua di zucche forse non mi faccio uno stack ma no probabilmente vi faccio già uno stack direttamente raccogliendo questo di cibo quindi non è che sia particolarmente necessaria una farm in questa stagione rispetto a quello quanto non fosse nella scorsa stagione ma forse più che altro di cotone ma neanche tanto perché anche nella scorsa stagione non abbiamo usato poi tutto quel cotone ci sarebbe servito tantissimo per la barca che poi non abbiamo finito e quindi forse ve la farò di cotone comunque andrei a fare una zona sottostante credo non più di forma circolare ma di forma credo rettangolare perché è quella più performante alla fin fine come spazi e qua è pieno di torce 2D ok blockman a te non piacerò per niente ma non piaceranno praticamente nessuno credo ma finora che non ho tante risorse terrò queste quando avrò più le risorse per poter fare delle lampade cose più belle cambierò non vi preoccupate magari ricordatemelo quindi io volevo fare innanzitutto un farm di geothermal generator che abbiamo sfruttato tantissimo nella scorsa stagione per il fatto che uno non costano tantissimo nel senso che vabbè è un diamante ma non non mancano tanti diamanti alla fine dopo un po' diventano in sovrabbondanza tanto che per spienere quella zona l'ho usato delle pale di diamante perché di ferro non ne avevamo tanto ma il diamante oltre che per quegli strumenti là non lo usiamo praticamente mai avevo una ventina di diamanti quindi ho detto vabbè anche se ne spreco due o tre non è grave mentre invece il mese viene utilizzato molto di più quindi uno non costa particolarmente perché sono poi otto uniti di ferro uno di brass un cavolo voltage un po' di copper granito che si trova in abbondanza nella zona giusta e diamanti e in più funzionano sempre costantemente perché con la questione dell'olio questo qua l'estratto di olio che si recupera dalle foglie è molto comodo a usare per esempio una farm di alberi per poter usare le foglie per produrre dell'olio e quindi alimentare dei generatori a combustione l'unica cosa dei generatori a combustione è che devono essere alimentati costantemente perché se un generatore a combustione alimenta una batteria che è carica niente brucia e disperde l'energia non viene accumulato nel processo quindi in realtà forse potrebbe essere comodo nel caso di high voltage nel caso di high voltage probabilmente un fuel fire generator che tra l'altro è anche l'unico perché c'è un solar panel high voltage che però come costruzione è una roba assurda perché a parte che questi componenti sono già abbastanza complicati di loro ma bisogna fare tre medium voltage che hanno bisogno a loro volta di tre low voltage che hanno bisogno a loro volta di tre solar generator e quindi è un crafting pazzoide che credo che nessuno avrà mai utilizzato in vita sua e funzionano solo di giorno quindi quando passeremo all'high voltage credo che passeremo alla combustione cioè faremo una farm di alberi a bestia e brucieremo olio in un modo assurdo creando un inquinamento senza precedenti nel nostro mondo di mind test ma alla fine infine abbiamo un mondo immenso siamo solo noi quindi credo che possiamo fregarci nell'inquinamento per i mesi in cui vivremo in questo mondo prima di eliminarlo per crearne un altro nuovo e quindi non è neanche poi troppo infattibile perché comunque come oggetti vabbè si ok questo è un po' complesso da creare questi sono un po' complessi da creare ma alla fine un full fire high voltage generator o due dovrebbero soddisfare tutte le nostre necessità ma per il low voltage ora come ora abbiamo semplicemente quel generatore a combustione che è giusto il minimo indispensabile per un macchinario alla volta io andrei a fare magari una schiera di geothermal generator da piazzare qua sotto e collegare con i cavi poi ai macchinari che porterò qua sopra inoltre pensavo di mettere su questo lato probabilmente un ascensore un ascensore per cose non tanto per salire a questo piano ma uno per scendere nella cantina dove ci sarà la zona di appunto produzione dell'energia e forse potrei anche metterci dei macchinari sotto ma non ora i macchinari più utili credo che debbano stare vicino alle ceste vicino quindi alla zona dove passiamo più spesso il nostro tempo che è verosimilmente questo piano terra qua e inoltre per andare giù alla miniera per il fatto che andare giù alla miniera è molto 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 comodo utilizzare un ascensore e poi è anche carino esteticamente c'è anche il teletrasporto nella mod appunto che vi avevo già fatto vedere forse nel nel primo episodio no non si chiama travel forse si chiama il teletrasporto si vabbè la mod si chiama travel qualcosa quindi mi fa vedere anche l'elevator l'elevator è craftabile così quindi non è neanche troppo costoso e ha anche delle porte bellissime a scorrimento che si azionano quando ci passi quindi quando esci dall'ascensore loro si aprono e quando entri si aprono eccetera eccetera in più il teletrasporto costa un sacco di più a livello di mese quindi nulla ci vieta di ricondurci con la miniera la sotto allo stesso blocco qua a un livello più basso e scavare da questo punto di partenza quindi così risparmieremo un sacco e dovremmo costruire solo un elevator l'elevator appunto a differenza del teletrasporto è che va solo in verticale quindi ci può portare da qua a un punto che ha la stessa coordinata di x e z ma che ha y diversa mentre il teletrasporto ti porta ovunque però appunto è molto molto più costoso e niente io per questo episodio credo che sia quasi tutto però vorrei fare anche magari del progress visto che avete visto quasi solo il progress che è stato svolto off camera e quindi non abbiamo della sabbia qua si abbiamo della sabbia e allora io andrei a fare due ascensori che poi andrò a piazzare appunto nel e poi farei anche delle delle porte abbiamo altre 12 unità di sabbia si un 2 perfetto allora queste le potrei andare a cuocere anzi andiamo subito a farle cuocere i macchinari dovrò poi anche spostarli all'interno dell'abitazione il prima possibile i geotermagenerator non possono ancora essere prodotti per il semplice fatto che no la fourness la fourness per il semplice fatto che non ho trovato lava cioè vi sembrerà impossibile ma non ho trovato lava fino al punto in cui sono sceso e quindi non è possibile che bello questo scorcio da qua tra l'altro no per un attimo ho visto il monte fatto no il monte con l'alberello là si da qua si vede è bellissimo cioè credo che cioè se non guardo là lo vedo ma se guardo là non lo vedo lol ha finito ottimo allora adesso andiamo a prendere un po' di ferro che sprecheremo per questa occasione ma è davvero una mod che mi ha colpito particolarmente perché è esteticamente carina e molto fatta bene come anche la mod farming di cui tra l'altro sono davvero entusiasta per il fatto che è molto ben fatta ma sia graficamente che anche ah dovevo cuocere anche il ferro magari allora ho bisogno di 12 pezzi di ferro quindi prendiamo questo andiamo a cuocerlo molto rapidamente è davvero è bella e in più come ha detto anche lo stesso creatore è facilmente modificabile nel senso che basta aggiungere dei file in più di altri ortaggi e quindi fare delle mod con altri ortaggi con altri cibi eccetera eccetera infatti a tal riguardo ne ho parlato anche con blockman77 perché sarebbe molto interessante da aggiungere anche magari degli altri degli altri cibi degli altri degli altri ortaggi degli altri frutti è davvero molto carina molto non cesserò mai di esaltarla perché è proprio bello cioè credo ad ora che sia la mod di farming più bella che io abbia mai avuto su mind test e non sto esagerando è davvero è completa è bella esteticamente parlando dico quindi wow allora andiamo a fare due ascensori uno lo piazzerò sopra e uno lo piazzerò sotto nella cantina che andrà poi a queste qua sono le porte quelle di ferro che sono a mio parere molto più brutte in più costano anche molto di più quindi sono più per quelle di vetro che costano meno anche perché la sabbia alla fine per noi è praticamente come la cobblestone perché la cobblestone possiamo ricondurla alla così così lo metterei qua mi piace qua così come è così non è particolarmente carino ma con la porta davanti è davvero strabello ora se ci passiamo davanti non si apriamo quando noi usciamo da quello si aprono le porte cioè quando noi scendiamo adesso nel piano aspetta se noi scendiamo nel piano ah il nome di questa stazione piano terra piano terra ok quindi questo qua è il piano terra poi dopo gli altri saranno considerati come meno uno eccetera eccetera e potremo viaggiare da uno all'altro che è una cosa stra epica adesso potrei piazzare l'altro giusto per darvi un'idea allo stesso punto dovrebbe essere l'aver sì ho già sforato addirittura i 25 minuti ma volevo fare un po' di progress sono qua tolgo il blocco giusto per avere l'idea di sì ok qua perfetto quindi qua ci mettiamo l'altro elevator adesso poi andrò a togliere ma è giusto per farvi vedere un attimo come funziona allora entriamo questo lo mettiamo terrazzo ok e adesso possiamo viaggiare al pieno terra si aprono le porte e noi usciamo e siamo al pieno terra ed è davvero davvero bello allora ah no devo cliccarlo con il sinistro una volta per aggiornarlo quando sono stati aggiunti degli altri ascensori o degli altri teletrasporti comunque in generale e andiamo al terrazzo e adesso si aprono le porte e noi boom siamo nel terrazzo ed è davvero fantastico quindi pensavo di sfruttarlo per andare giù in cantina e per andare giù in miniera perché è esteticamente davvero bellissimo cioè almeno a mio parere bellissimo poi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate ma secondo me è proprio 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 bello adesso dovrebbe essere ok l'ho aggiornato e non ha più quello al piano superiore detto questo io vi ah sì station terazzo is being removed from the network ok e io vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto noi ci vediamo nel prossimo episodio vi auguro una buona giornata ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!